In occasione del 17 maggio, giornata internazionale contro l'homo bitransfobia, l'Università di Urbino ha ospitato oggi Francesco Cicconetti, svalicando un nuovo confine in tema di diritti e contrasto alle discriminazioni. Il riminese Francesco è infatti un ragazzo trans che ha completato un percorso di cambio di identità. Percorso in cui nel 2018 si laureò in lingue all'Università di Urbino come Francesca durante una transizione di genere già avviata. Sei anni dopo, l'Ateneo è tornato oggi ad ospitarlo con rettore e prorettore Giorgio Calcagnini e Giovanni Bocciartieri che hanno riconosciuto la cosiddetta carriera alias, consegnando il diploma modificato col nome di Francesco. Sei anni in cui Cicconetti è divenuto popolare divulgatore di temi legati a vita e sensazioni di chi vive simili percorsi, compresi i 200.000 follower di Instagram. Temi divenuti anche un libro dal titolo Scheletro Femmina. È andata benissimo, ho avuto sempre la mia famiglia accanto e questo è un enorme privilegio. Penso sia il privilegio più grande che mi è stato regalato, perché non è scontato avere una rete familiare così solida, pur nell'incomprensione, perché non è che mio zio sappia per cosa significa essere un ragazzo trans, non ne ha la minima idea. Però l'importante poi è che ci amiamo ed è il motivo per cui oggi posso fare divulgazione, posso espormi proprio perché alle spalle ho questa rete fortissima che mi fa sentire sicuro. Quindi questo lo riconosco. Francesco è tornato per la prima volta oggi all'università, luogo in cui attraversò i momenti cruciali del suo cambio di genere. L'università cambia le persone che hai intorno, quindi ogni volta qualcuno si girava, ma perché, come è possibile che si chiami così, perché non avevo ancora preso ormoni ma avevo un viso molto androgino, quindi qualcuno era un po' confuso diciamo. E quindi era un enorme disagio e questo influiva anche sul mio studio, poi ovviamente ero meno propenso a dare gli esami, però gli ho datti mi sono anche laureato in tempo tra l'altro, non diremo il voto però, meglio non dirlo. Quindi c'è questa cosa contrastante nel periodo universitario, tanto affetto ma un po' turbolento, ecco. Essere trans e comunicarlo. Cicconetti ha spiegato agli studenti la necessità della divulgazione che sta portando avanti. Ancora mi dicono, madonna, ma ok abbiamo capito che sei trans, nei commenti, abbiamo capito che sei trans, perché devi continuare a dirlo, perché non ti fai una vita, perché, a parte di farsi una vita è difficilissimo il giorno d'oggi penso, ma perché c'è bisogno di essere visibile ancora. Sarà bello arrivare al momento in cui non ci sarà bisogno di parlarne e di mostrarsi, però ancora oggi, visti i commenti, ce n'è. Quindi motivo per cui lo faccio.